Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi misureremo i decibel di questa Kawasaki WN800 Classic. Secondo me farà un bel po' di casino. Sigla! Prendiamo il fonometro, solito passo, lo accendiamo, mettiamo la moto al minimo. 68,90 al minimo, ma piena potenza quanti decibel farà? Ve l'avevo detto io, 125.4. Se pensate di avere un mezzo più casinista di questo, contattatemi. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi, commentate e condividete. E come al solito, che roppa! Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Ciao ragazzi!